tirate al mento con elastico prendi una banda elastica un elastico per la postura o un qualsiasi elastico che ti permetta di essere allungato abbastanza posizionane un'estremità di mezzo al di sotto di un piede e afferra l'altra estremità con tutte e due le mani con impugnatura prona solleva lateralmente al corpo i gomiti il più possibile portando quindi l'elastico fino al mento dopodiché riabbassa i gomiti in modo controllato